Cambio al vertice per le partecipate del Comune di Catania. Dopo quello di sostare in agosto il Comune in qualità di socio unico ha provveduto a rinnovare il management di tutte le società interamente controllate nominando presidenti e consigli d'amministrazione scelti tra professionisti e soggetti con esperienza nel settore pubblico e amministrativo di ASEC, SPA, ASEC, Trade, Amt, Multiservizi e Sidra. Al vertice di ASEC, SPA è stata nominata Francesca Garigliano, avvocato penalista, già presidente di ASEC Trade. Il nuovo presidente di ASEC Trade è invece l'avvocato cassazionista Giuseppe Marletta. Al vertice dell'AMT è stato nominato Puccio Larosa, avvocato esperto di diritto civile, del lavoro e tributario, più volte impegnato in amministrazione comunale. Al Multiservizi è stato nominato Giovanni Giacalone, funzionario pubblico con grande esperienza amministrativa. Il nuovo presidente della Sidra, infine Alessandro Corradi, avvocato esperto di diritto civile, amministrativo e tributario con esperienze amministrative.